Start, 2, 1, Mission, and Lift Off! Uno speaker radiofonico in una città dove c'è un misterioso assassino. Il gioco costa 25 euro a prezzo pieno, 19,99 scontato nel momento in cui sto registrando. È un gioco in italiano, è un gioco dove andremo a mixare, è qualcosa di già visto insomma, quello che avevamo visto dove dovevamo montare i video in pratica per la televisione, qua invece lo facciamo, sentendo anche questa popolazione di gente un pochino terrorizzata da queste uccisioni, insomma, da questo assassino. Il gioco inizia con questo piccolo preambolo dove ci fa vedere l'interazione che ci sono con gli oggetti. In pratica possiamo scivittare da una mano all'altra le varie cose, quindi possiamo metterlo nell'altra mano e poi col tasto destro buttarlo o con l'AR.gettarlo di forza. Abbiamo la possibilità anche di ispezionare gli oggetti, quindi abbiamo modo di prendere in mano un oggetto, premere, prenderlo in mano, premere E e poi muovere il mouse per esaminarlo e poi vabbè sempre andare a buttarlo e sempre per appunto immergerci nella atmosfera di questa cittadina terrorizzata dal serial killer. e il gioco ci mette di fronte a questa piccola introduzione molto particolare dove qualcosa succede, insomma, e ci viene mostrato qual è l'essere misterioso che ci terrorizzerà durante questa avventura. Mi ricordo un po' Radio Killer, mi pare. Però, vabbè, è un puzzle game, lo definiscono, insomma, horror, nel senso che poi dovremmo fare le scelte giuste, insomma, da buoni speaker della radio. Ora, la cosa interessante è che ci metteranno, questa è solo un'introduzione un po' così, ma in realtà poi andremo a interagire con quello che sarà il nostro vero e proprio posto di lavoro, cioè la radio, con tutti i vari slider da regolare. Infatti qua partiamo con la nostra collega al di là del vetro in fondo, dalla regia, noi siamo Forest, lei è Peggy. Lui ha sentito un urlo, che probabilmente è la persona che abbiamo visto appena adesso aggredita dalla serial killer. Ora lo prende in giro e gli dice, no, ci sono gatti in città, no, non è un urlo, è semplicemente un gatto, insomma. E lo prende in giro e gli dice, sai, quattro gambe, quattro zampe, baffi. Quindi, lui dice, no, sembrava un qualcosa di più, insomma, però va bene. Facciamo l'ispezione per il volo, lo chiama così. Bisogna fare la prova, quindi quello che faremo. Reggie ci paga per effettuare i controlli. E ci paga per chiamare l'ispezione per il volo. No, no, lo facciamo, lo facciamo. Questa è la scelta multiplayer. Controlliamo l'attrezzatura, quindi andremo a mettere i dischi. Ricordiamo, nell'87, quindi ci sono i dischi, non c'è nulla di digitale. Beh, i tempi. Ci sono anche le cassette. Ma scusa, se io venissi là a vedere... Ok, questa è la... Non è molto isolata, come cosa radio, ma probabilmente... Qua abbiamo anche tutte le vie. Prendo un disco, prendiamo qualcosa che mi ispira particolarmente. The Late Night Lurker. Prendiamo questa. Tasto destro, lo posiziono qui e faccio play. Che è quella lì. Va bene. Pulsanti di chiamata, che sono questi, credo. Phone line. Il capitano aspetta che tu rispondi alla linea 1. Rispondo alla linea 1. Quel capitano Stuart Pidone. Stu Pidone. Pulsanti 2 funzionano allo stesso modo, per cui... Premo il 2. E il pulsante di Peggy. E il Peggy è il tasto tale. Qua c'è scritto 4, però... Premere Peggy. Non c'è un Peggy Mute Button, no. Bellino! Qua c'è dentro le cassette. Quante ore c'è passato io a registrare cassette? Allora, ok. Premi la 4, sì. Va bene, dai, dai. Butto la carta. Allora... Dobbiamo prendere il Sound Blaster. Qui è questo. Ok. Sono gli effetti d'inter e mezzo. Le sigle, in pratica. Proviamo con un disco. Ecco, riproduce un brano e... Ok, lo metto via. E prendo quest'altro. Ah, devo metterlo via! Eh, non me lo mette via, cazzarola. Vabbè, rimettiamo questo disco, da. Ok. No, è diversa, non è quella che dicevo io. Le rivette dovrebbero trovarsi davanti a te, proprio davanti al tuo naso, ecco le qua. Abbassiamo il volume. Questa non so cosa sia. Ah, questa, ok, quella della cassetta, quella del disco. Questo è il volume generale. Questo è dei tasti qui, probabilmente. Questo è della cassetta, che non stiamo usando. E questo è il disco, ok, hai già capito. Perfetto. Diamo inizio allo spettacolo, perfetto, dai. Dopo la tua introduzione, nella nostra prima parte, indovina l'urdo. Ok. Ah, qua c'è il microfono. Bellissimo. Dai. Sei in onda tra te e due. Siamo di notte. Benvenuti, amici della notte. Sempre sognato di dirlo. Buongiorno, Gallo's Creek. This is your host, Forrest Nash, and you're listening to 189.16, The Scream. Before we start taking your calls tonight on Gallo's Creek's only late night phone-in talk show, I need to let you know about a special competition we have for you this evening. Ok. Indovina l'urlo. Riproduco un urlo, voi ci chiamate e... Indovinate l'urlo. Dovete indovinare il motivo dell'urlo. Sarà un mignolino sbattuto, un dito segato via? O la scoperta del cadavere di una persona cara? Ora andiamo con la cassetta. Ok. È un tipo... È quella che mi hai dato ieri di cassetta? Siamo in diretta e stiamo perdendo tempo così? Vabbè. Qual è la cassetta, cazzarola? Va bene. Va bene, dai. Pensa all'urlo e poi il massimo volume. Perfetto, dai. Tutto su. Eccomi di nuovo. Ascoltate attentamente e chiamate. Indovina l'urlo. Caduta da precipizio. Dai, facciamo questa. Che programma discutibile. Chiamate e provate a indovinare. Chi risponde correttamente può vincere. Due biglietti per il maestoso labirinto e una frettella in omaggio. Provate a indovinare, signori amici della notte. Quindi? Ah no, merda. Devo presentare la canzone? Sì. Spero vi piaccia tanto quanto piace a me. Via. Ok, non siamo più in onda. Ho mandato la... Ok, stiamo ascoltando la musica adesso. Mamma mia. C'è una chiamata in arrivo. La metto un po' di sottofondo. Vabbè. Chiamata in arrivo, vai. Non me la fa mettere in sottofondo. Forrest, grazie al cielo ce l'ho fatta. Mi chiamo Leslie Harper. Sono un'operatrice 9-1-1 alla centrale di poliziai che ero Scricca. Sei andata tranquilla? Leslie, credo che sia una notte per il crime. Hai tempo per chiamare. Che possiamo fare per te? Una notte per la notte? Forrest, ho trovato un corpo. Prego di aiuto. Forrest, riconosco la sua voce. Sono molto sicuro che... È un'operatrice del nostro 9-1-1. Penso che sia vero. Cioè, ci ha chiamato una del 9-1-1. Non si fanno scherzi nel mio show. Ma nel contatto. Vabbè. Dovresti chiamare lo scerifo, non in radio, giustamente. Sono nell'ufficio del scerifo in questo momento. Lo scerifo Matthews è morto. Come lo scerifo è morto? Al dipartimento non rispondeva nessuno. Non è mai successo prima. Sono andata dalla centrale e l'ho trovato. Ok, no, la musica c'è, c'è. Qualcuno l'ha ucciso, gli si è avvicinato e... Non me la sento di dire cosa gli hanno fatto. Sì, ma stai parlando in diretta e in radio? Ma che senso ha sta roba? Penso che ci abbia provato e ci sono bossoli ovunque. Credo che abbia tentato di sparare l'aggressore, ma... Dove sono gli altri agenti? Hanno isolato l'aria o fatto quel che devono fare i poliziotti? No, ho guardato dappertutto. La vice-scerifo Martinez è qui, ma è priva di sensi. E tu chiami in radio. Ti ho chiamato subito dopo averla trovata. Un attimo, non dirmi che questo paesello ha solo due poliziotti, perché noi siamo nuovi qua del paese. Ne abbiamo tre, non scherziamo, ma l'agente Gunderson è in vacanza a Cancun. E dire di chi possa essere stato? No, perché se no... Non ho notato nulla venendo qui. Leslie, devi chiamare Anderson a Quiet Ridge. Devo andare a qualcuno dal loro dipartimento. Ci ho provato, ma non riesco a chiamare solo numeri locali. Riesco a chiamare solo numeri locali, qualcosa non va. Devo andarci di persona e raccontargli cosa sta succedendo e tornare con i rinforzi. Ma se ti allontani mentre c'è un assassino a piede libero, chi si occuperà della linea d'emergenza? Ho chiamato per questo Forrest. Ho deviato tutte le chiamate al 911 sul tuo numero. Ah, bene! Puoi contare su di me. Sei l'unico da queste parti che ha l'esperienza di gestire una linea telefonica. Cioè, siamo disperatissimi. E poi ci sono competenze molto simili tra i due lavori. Cioè, questa è la città davvero? E' come un'intervista. Fai domande per ottenere informazioni che puoi usare. Fai parlare alle persone, ecco, guidi la conversazione e sai quando intervenire. Sai che sono così bravo a fare interviste che da Chicago mi hanno mandato a Gallows Creek, vero? Ma non importa, comunque voi siete in due. Potete parlare l'uno con l'altro e scambiare idea e collaborare. Ok, quindi faremo un investigativo qui, direttamente dalla radio. Devo tirare fuori da quella cella la vice-sceriffo Martinez svenuta. Chiunque l'abbia aggredita ha poi gettato le chiavi nella cella, dopo aver chiuso la porta. Ok. La cella non la sbarra e la porta ha solo l'apertura per il vassoio dei pasti. Ma è troppo stretta, la mia mano non ci passa. Deve esserci un altro modo per entrare. Trovo un altro mazzo di chiavi. La stiamo aiutando a distanza. Diciamo che il gioco, dal mio punto di vista, sembra essere molto interessante. Tuttavia non è un gioco da video, o da live, insomma, perché è comunque tutto narrativo. Controlla sulla scrivania degli agenti, controlla lo scerifo Matthews. Controlliamo lo scerifo. Controlliamo lo scerifo. Ok, vediamo un attimo. E tanto abbiamo sempre sotto la musica. Ok, la trovate grazie al nostro aiuto. È grottesca questa situazione. Poi vi faccio il birra perché gli metto gli effetti. L'abbiamo trovata? Mi sembra che sia andata bene. Già, mi sembra che sia andata bene. Forse Leslie aveva ragione. Forse riusciamo a gestire questo 911. Cioè, siamo diventati il 911 pubblico sulla radio. Mi è giunto il momento di cambiare il disco. La porta in auto, anche se è ancora priva di senso, per chiedere aiuto. se il killer torna a senso e la mattina. Ok. Oddio, ho messo su una storia. No, basta, basta. Pause, pause. Tira con la musica. E' la cosa giusta da fare. Oddio. La mia auto sta andando a fuoco. Cosa sta succedendo, il rumore? Sembra quasi un fischio. Il fischiatore? Chi è il fischiatore? E' uno serial killer degli anni 50. E' indossato con la marca. Che è quella che abbiamo visto prima. Questa è una da fare in tempo. Chiudi la porta a chiave. L'auto è in fiamme, dobbiamo pensare. Prendi un'auto della polizia. Sì, dai, prendi un'auto della polizia. L'auto di pattuglia 3. Prendi la pistola della vice scerifo, perché lo scerifo ha sparato, quindi avrà finito i proiettili. Sì, ma sarà scarica, infatti. Bellino perché mi sento proprio qui in radio. Mi sto ascoltando come se fossi io. Questo devo dire che è carina come idea. C'è un deposito per le armi? La mandiamo al deposito delle armi. Era bloccata. Però lì è un mazzo di chiavi, quindi... Fammi controllare la cintura della vice scerifo. Dovrebbe avere un manganello o qualcosa, no? Le ha lasciato lo sfollagente, infatti. Lo sfollagente, non c'è n'è tesa. Colpo di scena. Prende tesa. Perché sono io che faccio il pirla e mi faccio gli effetti. Aspetta, hai sentito? Ho sentito... No? Non si sente più bussare. Lo vede ancora il fiscatore? Mi dare un'occhiata? No, non lo vedo più da nessuna parte. Auto, pattuglia 3, proprio lì. Allora... Ok. Appoggiati. Ok. E andiamo. Va bene, qua dovremo poi seguire dove sta andando, perché dovremmo dargli una mano a muoversi. Allora ragazzi, questo è un gioco davvero molto, molto particolare in bocca al lupo, perché dobbiamo gestire tutto da qua. Ovviamente basandoci anche su dove si trovano le varie location, credo, perché qua c'è un annuncio di una strada chiusa, quindi... insomma, il gioco sembra essere davvero interessante, potrebbe essere molto noioso visto in video e non... diciamo che non vi biasimo per questo, perché ovviamente se vi siete annoiati ci sta, perché è un gioco da godersi da soli. quindi... Ok, qui abbiamo... Ok. Ok. Ok, stiamo seguendo questa avventura, ma direi che possiamo fermarci qua. Gestiremo tutta l'avventura da qui, accetteremo le varie telefonate e potremo dare indicazioni appunto via telefono usando questa radio, un'idea piuttosto originale, nonché strana. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Killer Frequency, che non è sicuramente un gioco per tutti, è un bel narrativo, un bel, chiamiamo puzzle, ma una storia scelte multiple con la narrativa e il controllo qua della radio. Non so purtroppo se useremo mai tutte queste cose per intrattenere la gente, per gestire la radio, però è un'idea senz'altro originale, niente da dire. Potremmo fare il canestro, ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un po' prossimo video game play, alla prossima e ciao ciao!